Dopo la Civitanovese, un'altra marchigiana pretendente al salto di categoria scalpita all'Angelini. La fermana di Flavio Destro, consapevole del proprio valore ed in cerca di riscatto dopo le recenti battute di arresto in campionato e in Coppa Italia. Di fronte l'inesperto volenteroso Chieti di Alberto Mariani, che al secondo minuto capitola a seguito di una improvvisa e repentina incursione degli ospiti, auspice l'autorete dell'incolpevole difensore Zeetti. Neroverdi storditi, canarini determinati nell'offendere grazie agli ampi spazi a loro disposizione, come al quindicesimo quando Molinari si ritrova la possibilità di arrotondare il vantaggio. Chieti volenteroso ma senza Estro, con poche idee, non riesce a lanciare gli esterni, a fatica cerca di penetrare la difesa marchigiana, non sempre puntuale ma brava ad allontanare la palla dalla propria area. Il gioco della Fermana è più aggressivo e sufficientemente organizzato per guadagnare zone nervalgiche, dalle quali partono anche calci di punizione. Trentottesimo, traiettoria pericolosa, ma nessuno ne approfitta. Il gioco del Chieti è prevedibile e scarso senso di incisività offensiva e certamente tutto ciò svilirebbe anche l'indomita tifoseria organizzata della curva Ezio Volpi, assente, giustificata. Secondo tempo e prima sostituzione dei locali, fuori Volpe, dentro Tuccia. Parte vehemente la squadra Neroverde e sorprende la compagine di destro, in modo fulmineo con Genovesi che scaraventa a rete. Esulta il gruppo teatino, si abbraccia e si rinvigorisce. Primi correttivi in casa marchigiana, fuori in Molinari, dentro il neo arrivato Marolda. Ora i teatini allargano il gioco con maggiore velocità rispetto agli avversari, la manovra è più convincente quando ci si esprime palla a terra. Peccano di concentrazione i canarini e destro corre ai ripari. Maggiore razionalità centrocampo, fuori Turbinati, al suo posto Omiccioli. E nel momento di maggior favore per la squadra di Mariani, la Fermana ritrova il vantaggio con una bella individualità di Petrucci, che in perfetto equilibrio perfeziona la rete. I teneri teatini soccombono ancora. Difesa impreparata che non presiglia gli spazi e Marolda sigla la terza rete. La forza psicologica cala, tant'è che è un fallo di frustrazione, comporta per doppia munizione l'espulsione del neroverde Zetti. Padroni di casa in ginocchio e infilati severamente questa volta, in contropiede, ancora con Marolda, di piatto. Non c'è storia adesso e gli spunti di cronaca sono assenza unico. Al 34esimo possibilità di arrotondare il punteggio, ma Omiccioli non realizza la massima punizione, concessa dall'intransigente signor Centi. Tifoseria fermana sempre più in festa, quando arriva la quinta rete degli ospiti, che rilanciano le loro ambizioni. A Chieti anche le promesse istituzionali latitano. Una volta bastava una stretta di mano, oggi neanche stringere i denti aiuta a allenire l'afflizione per la precarietà dei riferimenti sociali e di costume, che si evidenziano nella città teatina, come quella della tradizionale domenica calcistica, quando chi si esponeva in prima persona era animato da puro sentimento e sincera passione, onorando impegni e cullando anche dei sogni. È chiaro che come allenatore spero sempre, lavoro sempre per cercare di vedere qualcosa di meglio ogni settimana. affrontiamo ogni domenica squadre importanti, cerchiamo di dare tutto quello che abbiamo dentro. Abbiamo preso un gol a freddo che non dovevamo prendere, abbiamo cercato di stare dentro al campo, l'avevamo recuperata. Forse nel nostro momento migliore abbiamo preso il gol del 2-1 che non dovevamo prendere e poi subito dopo il 3-1. Da là è partita finita, non puoi chiedere a questi ragazzi di rimanere dentro il campo, per quanto vuoi urlare è chiaro che poi ti demoralizzi. Avere il dovere di andare avanti, provare con tutte le mie forze a tirarli su, a portarli a fare qualcosa di importante, ci stiamo provando con tutta l'anima. È normale che se il problema è l'allenatore, io sono il primo a farmi da parte, non è che sto a continuare a dare tutto a me stesso se poi il problema sono io. Mi dicono di no, i ragazzi mi dicono di no e la proprietà mi dice di no. E se loro dicono di no, io vado avanti a testa bassa e non mollo niente. Questo devo dirlo a parole grandi. Potevamo soprattutto nel primo tempo fare meglio. Ci siamo un po' dopo, abbiamo fatto gol subito, non abbiamo alzato i ritmi, ci siamo un po' adattati al ritmo della gara e così non va bene perché le partite devono essere chiuse prima. Non si può rischiare poi di prendere i gol e di andare a compromettere un incontro. Quindi il primo tempo non bene, il secondo tempo meglio sicuramente. Gli obiettivi di questa fermata sono di lavorare. Noi dobbiamo lavorare tanto. Siamo una squadra che, ripeto, questo è un campionato dove c'è una squadra al di sopra di tutte e tante altre ben organizzate che possono arrivare dal secondo al settimo, ottavo posto. Noi dobbiamo cercare di far bene e lavorare. Gli obiettivi li vedremo più avanti.